Sono Franco Di Filippo, dipendente di EURSPA. Stiamo raccogliendo le firme per salvaguardare i posti di lavoro e per tutelare il patrimonio di EURSPA. Tutto questo perché la nuvola di Fuxas, voluta dal MEF e dal Comune di Roma, venga finanziata dagli stessi e non sulla pelle dei dipendenti. Comunque noi ci adoperiamo affinché questo non avvenga e speriamo che il MEF ci ripensi e ricapitalizzi EURSPA. Stiamo raccogliendo le firme da più di un mese affinché riusciamo a convincere il MEF a ritornare sull'idea di vendere i palazzi e di tutelare i posti di lavoro. Invitiamo tutti a venire ai nostri banchetti a firmare la nostra petizione popolare. Grazie. Grazie.